no 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 eee stai registrando? si ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale visto che tra poco bel Natale quanto manca il Natale? poco 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 e poco pico e visto che dobbiamo ancora fare l'albero facciamo oggi chiamiamo il gatto e da tanto come lo facciamo vedere il micio arriva il gatto nooo micio eccolo 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 il micio ciao e ti ha scappato e adesso il timelapse del nostro Epidio Natale abbiamo finito l'albero ora l'ho mai creduto quell'ammasso di roba ragazzi mi piace il mio albero è bellissimo vedo 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 io io Sofì qual'è la tua pallina preferita? dimmi un po' eeeh questa qua eccola lì con l'arcobaleno dentro eh si lasciala poi Sofì mi piacciono quelle pelose sì quelle pelose queste qua e poi mi piacciono anche queste qua con i pallini ah questa questa Sofì sì quella ricca e faccio anche queste con la coda e quelle gioiello? anche queste sono belle anche queste ragazze sono bellissime Sofì gli piacerà questo albero a Babbo Natale? sì secondo me adesso facciamo la pallina la pallina fregiata l'olua eccola la nostra Blinger miau per la prima volta vedrò Babbo Natale dal vivo Mettiamola qua Sofì qua davanti dai metti lì vedi se c'è qualcosa da spostare lì davanti lì è bellissima lì ma è un po' più vicina qua vediamola da vicina questa nuova pallina che cosa noti di strano? non lo so c'è qualcosa c'è un'altra Blinger c'è un'altra Blinger ma come fa ad esserci sull'albero? un'altra Blinger no non ce ne sono altre non rufolare mettiti la seduta vai la Blinger eccola allora Sofì aspetta prima di partire cosa dobbiamo dire? che dopo che alla fine del video ti svelerò il segreto di come riconoscere le Blinger guardatelo fino in fondo eh Sofì chi vorresti trovare? sono tutte belle è vero hai ragione sono tutte belle ho capito ho capito ho capito ho capito è lei ha lo stesso segno c'è lo stesso disegno qui che disegno c'è? fammi vedere allora qui qui ti vedete c'è il diamante e il lotto messo all'incontrario allora il diamante più l'otto messo all'incontrario che è il segno dell'infinito significa Diamonds are forever eh dov'è che l'avevamo già trovato questo indizio qui? te lo ricordi? nella nostra unica ultra Chippy Queen aveva questo indizio qui dentro io so già chi c'è è d'oro è la ball d'oro adesso Sofì scarta 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 fino a che non arriviamo alla ball poi la vediamo la ball d'oro che non ci capita mai 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 ma stavolta la mamma sapeva come fare ragazzi lo sapete che non lo so nemmeno io? mamma non me l'ha detto come riconoscere le loro che ci sono dentro ma dopo lo vediamo insieme ve lo facciamo vedere così anche se ne comprate una sola per Natale cercate di trovare quella che vi piace di più se ce l'avete una preferita e spero tutto Natale quando sarà la vigilia sono fatto il gomitolo eccola allora ferma 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 dammi tutte quelle cartine lì ok oh ha già aperto allora vediamo allora vediamo tutte le nostri poi aspetti e guardiamo la checklist adesso ti rimonto questa con il gancetto eh devo vedere abbiamo trovato quella ultra rara abbiamo trovato splash wheel vediamo tutta la checklist vedi che loro due sono quella rara devo aprire aspettaci e quella ultra rara poi ci sono tutte le altre ma cosa faranno loro? una piange e una piange e poi le altre sono alcuni cambia colore le avete viste tutte ma partiamo con il primo sacchettino è glitter solo tipo al posto delle scarpe c'è una coda di sirena una coda di sirena ecco che abbiamo già capito aveva ragione Sofì aveva ragione ok questo è un non lo so vai apriamo il non lo so presto scarpine ah allora ci sono anche le scarpine dentro sono sempre qui vieni qua faccele vedere per l'outfit da sirena e l'outfit da eccole qua questo mi sa che è vuoto sai ma secondo me si possono mettere anche dentro la coda ora dopo le vediamo adesso le mettiamo tutte qua i bustini le mettiamo qua apri un altro non lo so? si vediamo un altro non lo so un braccialetto un braccialetto un braccialetto non perdere niente eh che noi con i braccialetti e gli orecchini non andiamo tanto d'accordo questo è proprio microstotico di due colori però vedi anche te è libero è una lattina ma cosa c'è scritto? si c'è scritto posso aprire l'altro non lo so ah l'altro non lo so? vai quello lo so è il vestito sereno che bello perchè tutti la vogliono vedere che sta splash qui qua ecco il suo vestitino uuuuh quanti glitter su quegli occhiali aspetta aspetta Sofì le filiche le filiche sul nastro ehi 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 super glitter Sofì cosa stai facendo là dietro? posso? no adesso vi scusiamo per 6-7 ore di tutte quante cose e benvenuta a Flash Queen è bellissima! è un trionfo di glitter brillantini pagliuzzi di ogni genere è bellissima è la loro più bella del mondo ah che sarà? è lei guardate quanto è bella ma vestitela anche le sopracciglia azzurre ehi stiamo averì abbiamo trovato un'altra grata e è anche bellissima è super super bellissima adesso madame Plin Plin sarà gelosa ma tanto gelosa cioè è stilosa anche è stilosa guardate quanto è bella Sofì si nascono dietro è proprio bella lei ciao a tutti adesso ragazzi vi spiego come riconoscere le bolle delle loro allora ce ne sono ci sono 4 colori differenti le bolle si come sono? allora ve li spiego qui dammi nella bolle fucsia si ci sono bonbon one bun e prankster esatto nella bolle verde facile vedere ci sono doll face pink baby e c'è lei la conosci bene è posh è posh posh in quella rosa chiaro in quella rosa chiaro ce ne sono 4 quella un pochino più difficile eh c'è try ball maker mhm art breaker poi c'è bits quella con le cuffie e ice cable quella con i pattini poi quella dorata quella ball d'oro come quella che abbiamo trovato noi c'è splash queen si la nostra regina ha vinto lei e sugar queen quindi se trovate un espositore pieno potete scegliere ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e attivate la campanella dindal dindal e ciao ciao dove fai sufi vado a staccare il pallino e vi lascio la foto e decidete qual è la più bella ma secondo me vince la splash queen ciao splusche 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 ora